È un progetto che è partito quattro anni fa grazie all'iniziativa della provincia di Ravenna e che ha chiesto l'aiuto all'università per introdurre all'interno del fiume Reno un pesce che era in via di estensione che era lo storione dell'Adriatico. Poi col passare degli anni questo progetto è cresciuto, ha coinvolto il parco del Ticino, ha coinvolto i parchi equatici di Cattolica e di Riccione ed è confluito in un progetto europeo molto molto importante per tutta la pianura padana e anche per la regione Emilia Romagna che è il Conflupo. È stata un'iniziativa molto bella quella di oggi di vedere liberati in natura degli esemplari di storione cobice allevati in cattività a frutto della sperimentazione scientifica che è la base di questo progetto. Abbiamo seminato 200 giovanili bellissimi che vengono da una riproduzione artificiale che abbiamo eseguito noi come università l'anno scorso e abbiamo scelto due aree, una appunto che è quella del fiume Reno e l'altra è quella della piallasse della Baiona.